Ma se la polizia ti ferma ad un posto di controllo sei obbligato a rispondere alle domande che ti fanno? Beh sicuramente sei obbligato a fornire le tue generalità corrette. Se poi ti chiedono dove vai, da dove vieni, a meno che tu non sia dei servizi segreti, non comprendo perché non dovresti rispondere sinceramente. In ogni caso e rispondendo alla tua domanda dipende anche quale sia l'attività che sta compiendo in quel momento la polizia. Se è un normale controllo, cioè se ti fermano per strada e non sono in una formale attività investigativa, è opinione comune che tu possa anche rifiutarti di rispondere ma non ne comprendo il senso, poiché sicuramente così insospettisci il pubblico ufficiale che dopo cercherà giustamente di capire qualcosa in più sul tuo silenzio.